In proiezione sembra che i numeri addirittura possano anche diminuire ma questo naturalmente non significa nulla perché anche un solo morto è una sconfitta terribile per tutto il sistema. Il 2023 potrebbe chiudersi con un leggero calo degli infortuni mortali sul lavoro. I numeri confermano come la Calabrese attesti nella media nazionale l'impegno di un'industria INAIL per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro soprattutto per i lavoratori ritenuti più fragili. Siamo anche convinti che un solo lavoratore, un solo dipendenza, un solo collaboratore che non ritorna a casa dopo il turno di lavoro è una sconfitta per tutti per cui su questo ci deve essere la massima determinazione, il massimo impegno. La collaborazione ha previsto un progetto di formazione indirizzata ai lavoratori stranieri che per difficoltà linguistiche e cultura di appartenenza sono ritenuti più a rischio. A una popolazione di lavoratori fragili che talvolta hanno difficoltà a recepire i concetti legati alla gestione del rischio e del pericolo. Il progetto ha coinvolto 11 piccole e medie imprese operanti nei settori delle edilizie e dei trasporti con corsi di formazione rivolti ad 88 lavoratori stranieri per la maggior parte dell'est Europa. Una parte delle aziende calabresi, come ripeto su tutto il territorio nazionale, non prende seriamente in considerazione alcune procedure e aspetti normativi. Inail conferma il vulnus anche in Calabria aziende che sottovalutano il rischio. Io credo che nessuna impresa di quelle sane, di quelle serie, possa considerare un costo e non un investimento alla sicurezza sul proprio patrimonio che è il capitale umano. Luana Costa per la Cignus 24